L'eclettico attore siciliano Antonello Costa è scena stasera al nuovo teatro Orione di Palermo con lo spettacolo La vita è un attico. Il pubblico assisterà non al suo classico one-man show, ma uno spettacolo dove interagiscono vari personaggi in scena. È una commedia divertentissima, abbiamo già toccato tantissime città italiane, Milano, Salerno, Roma e finalmente veniamo a Palermo. Sono molto contento che è una commedia, non è il mio solito one-man show con le ballerine, ci sarà Giampiero Perone, Valeria Monetti e Annalisa Costa. La trama è molto facile, ma non posso raccontarti il finale. Un corriere deve portare un pacco per il signor Romanelli, ma nessuno lo conosce nel condominio e lui deve suonare a tutti gli appartamenti del palazzo. La caratteristica della commedia è che tutti i personaggi maschili li farò io e tutti quelli femminili li farà Valeria Monetti. C'è poi il finale a sorpresa che non ti posso raccontare, ma è molto molto divertente, ma posso dirti che alla fine, dopo aver riso un'ora e mezza, molti piangeranno. Quindi è una tematica che fa riflettere, nel senso non conosciamo i nostri vicini di casa. Ma qua ci sei andata molto vicino, guarda non posso dirti perché se te lo dico svelerei il finale, però sì, sono tutti personaggi molto particolari e qualcuno riconoscerà dei personaggi che vivono nel loro condominio, sono molto particolari. Una tematica che tocca la commedia, che mi piace molto, è quella che la tecnologia che doveva migliorare la nostra vita, secondo me la sta peggiorando perché ci allontana. Noi ci stanno facendo diventare sempre più persone singole, solitarie, perché col telefonino puoi fare tutto, invece quello che fai con gli amici lo puoi fare solo con gli amici.